Com'è tipo penultimo negli ultimi ingredienti anche Igenica Mosca Orca Te ne va Ma te ne vuoi andare Due Schifosa Oh no Bene vedete i bellissimi biscotti che sono in forno Queste in realtà sono il secondo tentativo perché primo Prezzate Orca loca schifosissima Contanto di fumo però Il peggio era il fumo Sì sì contanto proprio abbiamo aperto il fumo Abbiamo aperto le finestre Vabbè Questi Sono in retroscena Se mi ricordo la marca ve la scrivo Ed è una di quelle marche che Tenta le mani No così ti tagli con l'angolo Posso? Oh All'8 di mattina e di domenica E poi non lasso assegno io un pezzo di cioccolato No E' una di quelle creme solari che non fanno Oh Allora No Quello fare Vuol dire che sto decisamente capendo che è casa sua Che cos'è? No vabbè Ma questi motorini mosca veramente erano parole Rilassantissima Come sono rilassata E' fatto un po' di palestra Vuol dire che sta veramente Veramente Oh sto motorino Sta facendo il giro Delle specie di Delle specie di chiricori Regolare Tu te ne accorgi? Sì Sì E' impressionante No ma appena appoggio Sì sì Appena appoggio Proprio così E urla Sì urla Ovviamente Il cetriolo fa Benissimo E onestamente È un sapore Abbastanza neutro Quindi Se avete l'occasione Applichatelo dentro Ogni cosa Perché Fa veramente Molto molto bene Di tacere Di tacere Di tacere A voi scrocchiano i polsi Sì L'unica parte È il mio corpo Che scrocchia Comunque Brava Però non sta a nutire Ci proviamo Non lo so Beh Non lo so Se ti voglio Qui Quanto profondo Che ho spuzzato No Sveva No Qui in mezzo No Sì contenta Posso girare ora Dite che posso girare O questa qui rompe O non riesco a dirlo Dentro la vaschetta Le I semi I ciliere Ce la posso fare Ok Vi faccio vedere Vi faccio vedere La prima parte Del suo video Sono fuori di testa È youtuber A scegliere Il mio Scegliere Il mio Codello Te la preoccupazione Sì 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 Ti addormenti Bello Lascia Lascia Di questo colore E non è possibile Che stress Che stress Mi chiama nessuno Durante la giornata No Niente Cosa è tipo Un messaggio Vodafone Cosa del genere E invece adesso Infatti non è wind Comunque Che cosa sei Perché fai così casino E' molto comodo E' caldo Ce la posso fare Cosa è piantato Qui con la moto Non ho capito Ma che cavolo Oh te ne vai Aspetta Vai a rabbiare Lemmo Ole Sto st- Come rovinare Una domenica mattina Veramente non vuole rilassarsi Il giorno libero Proprio meno No 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 Non si può Perché sto Deve tagliare l'erba Alle nove del mattino Devo dire Che hanno una picca Che sfiga Palle Palle Ho sentito lo scattino Che palle sta luce Non sai che sforzo Stai E' Alla Alla